Si sta riscontrando un problema riguardo al codice errore 0x800 7000 e come numero alla fine 3 e poi l'altro codice 0x800 70002. In questo caso è possibile risolvere il problema ripristinando e aggiustando i file danneggiati sul nostro sistema e poi controllando anche il nostro disco dove andiamo così a installare i nostri aggiornamenti su Windows. Quindi andiamo direttamente sul nostro cmd quindi prompt dei comandi e segui come amministratore il prompt dei comandi. Una volta fatto vai a scrivere qua sopra c h k d s k Questo comando qua c h k d s k spazio slash f grande slash r Mi raccomando qua lo spazio e poi fai invio impossibile bloccare l'unità correnti il volume in uso da un altro processo quindi programma il controllo di questo volume al riavvio successivo del sistema facciamo sì quindi quando andrà ad avviare farà anche un controllo di questo volume qua il volume sarà controllato al riavvio successivo del sistema. Una volta fatto fai exit e poi riavvia il sistema una volta fatto andiamo sempre sul nostro cmd prompt dei comandi Esegui così una scansione sfc spazio slash scanno andrà così a fare una verifica dell'analisi del sistema così facendo andrà a ripristinare tutti i file danneggiati sul nostro sistema operativo Windows 11. Se non dovesse bastare ti ho lasciato in descrizione anche questi altri comandi di small line clean ape image questi qua questi tre qua devi eseguirli in ordine cominciando da check health scan health e poi questo qua restore health. Facendo tutto sul power shield quindi scrivi qua sopra power shield tasto destra sopra esegui come amministratore. Esegui così il comando questo qua il primo. Sono stati rilevati i danneggiamenti dell'archivio dei componenti e poi esegui gli altri due comandi. Una volta fatta così la scansione qua sopra devi riavviare il computer quindi sicuramente poi ti dirà dei file danneggiati sono stati ripristinati quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video se riscontri altri errori fammelo sapere quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao. Ciao